In un meriggio finalmente rischiarato da un sole speranzoso, ma con un cielo ancora impolverato di dubbi, il Bitonto, vincendo con la Mariglianese, griffa il record di punti, 62, nel girone H di Serie D e artiglia i play-off anche col placet dell'aritmetica. Mister Alessandro Potenza sceglie l'implume Cannizzaro fra i pali, cintura difensiva con Biasson Signore al centro e cavalieri Petta e Lanzolla, in mezzo il fosforo di Riccardi, la Possa di Addae, il Veleno di Palumbo, la Fantasia di Taurino e l'Ubiquità di Piarulli, davanti il duo Santoro-Danna. Luigi Sanchez, Piazza Maione in porta, Micillo, Tommasini, Varchetta e Arrivoli nel reparto arretrato, Mediana a tre con Faiello, Langella e Palumbo, in attacco Massaro, Ragosta ed Esposito. I padroni di casa mostrano presto una manovra avvolgente e armoniosa che culmina nel meraviglioso vantaggio al diciottesimo. Riccardi libera Taurino che imbecca Dana in area, squassante girata e cuoio nell'angolo. 120 secondi, Addae guizza sulla fascia e crossa radente, botta fuori di Santoro. Raddoppio a dieci dall'intervallo, concerto nero-verde nella metà campo altrui, musica di Biasson, Palumbo e Santoro per Piarulli che stanga e insacca. Nella ripresa si riparte con una incornata per squadra di Esposito e Santoro con esito medesimo, cioè risibile. Minuto 21, Palumbo scodella da destra, Maione va per le pidotteri e Piarulli viene schermato dagli avversari. Minuto 24, incauto tocco di mano di Biasson in area, sul lancio chilometrico e decisamente innocuo di Massaro. Rigore. Dal dischetto esposito Fredda Canizzaro e Accorce. Doppio giallo e quindi rosso per Pantano, la mariglianese resta così in dieci e la gara in pratica si chiude. Alla mezza Mancino a giro che non gira dal limite di Palumbo, alto. Subito dopo Santoro illumina per Lattanzio che viene anticipato dall'estremo difensore ospite in uscita. Lungo traversone per Riccardi al 39esimo, volé sull'esterno della rete. Due minuti e botta frontale di la cassa che trova i guantoni titubanti del portiere Campano. All'ultimo respiro un missile terra-aria di Haddae, sibila sinistro accanto all'incrocio e mette fine alle ostilità. Grazie. 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 Grazie.